Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura all'emergenza sanitaria, in campagna, gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe entro il primo febbraio. E' quanto sottoscritto dal TAR, che ieri ha colto la proposta di proroga da parte di un gruppo di genitori. Dati preoccupanti a Torre del Greco, dove ieri si sono registrati tre nuovi decessi, per un totale di 88 dall'inizio della pandemia. Abbiamo ascoltato le parole dei torresi. Passiamo poi alla cronaca con la Guardia di Finanza, che ha confiscato a Dischia beni per il valore di 200 mila euro nei confronti di due società proprietari di un noto albergo che non pagavano l'imposta di soggiorno. Ancora cronaca con i carabinieri che hanno rinvenuto nel napoletano un vero e proprio arsenale da guerra, confiscati anche 700 grammi di cocaina. Infine spazio allo sport con la Turris, che domenica scenderà in campo contro l'Avellino. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Il Tar della Regione Campania ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l'ordinanza del Presidente Vincenzo De Luca per quanto concerne il rientro a scuola per gli studenti delle superiori. Un ritorno in classe, ma con modalità integrata. E' questa la decisione presa dal Tar. Dopo il via libera per il ritorno delle classi elementari e della secondaria superiore di primo grado, a partire dal 25 gennaio, ora tocca, almeno al 50%, anche ai ragazzi dei licei, entro e non oltre il primo febbraio. Nel provvedimento si legge La Regione Campania dovrà conformarsi a quanto prescritto nel citato DPCM per le scuole secondarie superiori, preve ricognizione degli atti necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi prescritti. Infatti, secondo il DPCM firmato dal Governo Conte, nel giorno della deadline fissata per l'1 febbraio dovranno rientrare in presenza tra il 50 e il 75% degli studenti e non si potrà scendere sotto questa soglia, a meno di sussistenti problematiche che evidenzino l'impossibilità di riaprire gli istituti scolastici. Importanti parole anche da parte del Kodakons, che ha sottolineato la centralità del diritto allo studio e alla frequenza scolastica. Attore del Greco Inoltre sono state registrate 46 nuove guarigioni, di cui uno dal regime ospedaliero, nella giornata di ieri. Certificate anche 24 casi di positività al Covid-19, di cui uno ricoverato e di restanti 23 in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, il passaggio di tre cittadini positivi dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Comunicati i tre cittadini deceduti di classe 1925, 1933 e 1956. Mutta dunque il bilancio di contagi da Covid-19 a Torre del Greco. 25 cittadini ricoverati, 287 posti in isolamento domiciliare, 2595 guariti e 86 deceduti. A Cassella Mare di Stabia registrati 40 cittadini risultati positivi al Covid-19 nel periodo dal 19 al 21 gennaio 2021. 14 di essi presentano un sintomo lievi della malattia, mentre i restanti sono asintomatici. Accertati inoltre 28 guariti per lo stesso periodo. Tra il 23 dicembre 2020 ed il 21 gennaio 2021 sono sette i cittadini venuti a mancare. Sale a 3.177 dunque il numero totale delle persone che hanno contratto il virus a Cassella Mare di Stabia, di cui 48 decedute. Nel periodo dall'1 al 19 gennaio 2021 sono stati registrati 1.837 tamponi effettuati ai cittadini di Portici, con un esito di 94 nuovi contagiati. La percentuale di positivi sul numero di tamponi si assesta quindi sul 5,1%. Sono 38 nuovi casi di contagio da Covid-19 certificati ieri a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 28 guarigioni. Sono 365 cittadini attualmente positivi, 354 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Sale a 1.862 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.466 guarite e 31 decedute. 66 decessi nella seconda ondata a Torre del Greco, gli ultimi tre nella giornata di ieri. Ha paura? Un po' di paura ce l'abbiamo tutti, però del resto dobbiamo vivere. Con la speranza che al più presto possibile le cose migliorino e si va avanti. La speranza può essere il vaccino? Sì, perché oggi come oggi è l'unica alternativa che abbiamo. Speriamo solo di ottenere qualche risultato e di voltare pagina. Noi ci siamo portati via all'anno vecchio con la speranza che questo nuovo ci dia qualcosa di positivo. Crede che la situazione si risolverà a breve? Non credo, no. A breve no. Io penso che tutto quest'anno ne sentiremo ancora parlare. Penso che la terza ondata, se ci sarà, sarà leggera, non come la prima. Non ho paura, però bisogna fare attenzione. Lei ha fiducia sulla tenuta dei nostri ospedali? Ce l'hanno fatta e ce la faranno. Ha fiducia quindi anche nel vaccino? Del vaccino non sono ancora sicuro. Vorrei ancora attendere per vedere che cosa succederà tra due o tre mesi. Non sono certo. Crede che la situazione si risolverà in tempi brevi o ci vorrà ancora del tempo? Brevi proprio non credo. Io spero e mi auguro che per la primavera 22 ritorneremo alla normalità, se si potrà dire normalità. Abbiamo ancora paura di questo virus, ancora sconosciuto in parecchi, sta un'altra ondata, la variante mi sembra, e quindi bisogna stare sempre attenti fino a quando non ci faremo il vaccino tutti quanti. Quindi lei si vaccinerà? Certo che mi vaccinerò. Per sconvincere il virus ci dobbiamo vaccinare tutti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura della Repubblica per Tenopea, ha eseguito su disposizione del Tribunale di Napoli un decreto di sequestro preventivo di beni del valore di quasi 200.000 euro. Il provvedimento cautelare e patrimoniale riguarda due società che gestiscono un noto albergo di l'acqua a meno. In particolare, i finanzieri della tenenza di Ischia hanno riscontrato irregolarità commesse da parte della struttura ricettiva, ovvero il mancato versamento dell'imposta di soggiorno per gli anni 2018 e 2019, che invece riscuoteva dai clienti e la conseguente mancata prestazione della dichiarazione della tassa di soggiorno. L'attività investigativa e l'analisi della documentazione contabile acquisita ha consentito alle fiamme gialle di quantificare in 187.000 euro l'importo esatto spettante alle casse comunali nelle due annualità di riferimento. Un vero e proprio arsenale da guerra, quello rinvenuto a Brusciano dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, nell'ambito di un servizio risposto dal Comando Provinciale di Napoli. Armi e munizioni, ma anche droga, nascosta in una cassaforte occultata in uno scantinato nel rione 219 di Brusciano. Sei pistole semiautomatiche di vario calibro, una pistola mitragliatrice, una carabina con silenziatore e 350 proiettili di svariati calibri. Con le armi anche quasi 700 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento. Le armi sequestrate a carico di ignoti saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazioni. Durante il servizio sono state denunciate 5 persone, una per evasione, tre per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione, una per detenzione di strumenti atti ad offendere. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni, con la rimozione di alcune grate che, secondo le ricostruzioni, hanno permesso di spacciare al dettaglio in forma occulta lo stupefacente senza che acquirenti e pusher potessero vedersi. Primo impegno nel giro di ritorno per la Turris, che affronterà domenica alle 17.30 l'Avellino. Le due squadre si sono affrontate solamente poche settimane fa al Partenio, a causa del rivio resosi necessario dopo che il capologo Irpino fu colpito da un forte temporale proprio il giorno dell'esordio delle due formazioni in campionato. I Corrallini, redduci da un girone di andata che è andato ben oltre le migliori aspettative, chiuso con un ottavo posto più che l'osinghiero per una neopromossa, vengono dal pareggio interno contro la Vibonese, che comunque mantiene aperta una striscia positiva aperta ormai da cinque partite. I biancoverdi invece hanno vinto l'ultimo match disputato contro la Cavese, istandosi al terzo posto in classifica, e stanno dando vita a un bel duello per il secondo posto con il Bari, dietro alla lanciatissima Ternana. La squadra di Fabiano punterà in questa seconda parte di campionato a confermarsi come grande sorpresa del torneo, cercando di mantenere a debita distanza la zona play-out, iniziando ad accimolare punti anche sul proprio campo, visto che finora si è registrato un rendimento migliore lontano da Torre del Greco. E poi chissà, fare un pensiero concreto anche ai play-off. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni contattateci alla mail redazionechiocciolattvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti!